Dal pomeriggio di giovedì 15 settembre le prime gocce di pioggia hanno cominciato a gonfiarsi in un inferno d'acqua. Il maltempo si è abbattuto sulle marche con tutta la sua furia distruttiva. Una bomba d'acqua imprevista almeno di questa portata che ha flagellato la provincia di Pesaro Urbino, Cantiano su tutte, ma anche Serra Sant'Abbondio, Cagli, Frontone e Pergola. Bomba d'acqua risultata mortale per la provincia di Ancona con il territorio senigalliese, Ostra, Barbara, Trecastelli e Sassoferrato costretti a contare un fardello di vittime che strazia il cuore. Dalla notte scorsa è infatti partita la ricerca dei dispersi in strade trasformate in fiumi di fango e dalle quali si è cominciato via via ad aggiornare un amaro bollettino di morti andato progressivamente gonfiandosi. Secondo l'ultimo aggiornamento le vittime accertate sarebbero almeno nove con quattro dispersi. Ostra, Barbara, Senigallia e Trecastelli piangono i loro cari. Persone prese alla sprovvista dalla furia dell'acqua, dalla difficoltà e dallo spaisamento nel trovare riparo o scappatoie tale da evitare di essere travolti. Impressionanti le immagini di Senigallia dove il fiume Misa è straripato rompendo gli argini e inondando il centro storico procurando danni incalcolabili. Il prezzo più alto lo paga il paese di Pianello di Ostra con cinque vittime. Due sono padre e figlio Giuseppe e Andrea Tisba di 65 e 25 anni morti insieme intrappolati nel loro garage. Nello stesso Pianello di Ostra sono morti anch'essi intrappolati il 51enne Diego Chiappetti, l'ottantenne Fernando Livi ed Ennaji Mohamed. A Trecastelli ha perso la vita Maria Luisa Sereni di 72 anni, a Ostra Vetere è morta Rina Febi, a Brugneto di Senigallia l'ottantanovenne Gino Petrolati. Un'altra vittima è stata trovata Barbara. Proprio il comune di Barbara conta tre dei quattro dispersi attuali. Si cerca infatti un bambino di otto anni. Dispersa anche una mamma con la figlia diciassettenne. Un centinaio invece gli sfollati, più di 50 i feriti, trasferiti negli ospedali con il danneggiato nosocomio di Senigallia che ha chiesto assistenza a quelli di Iesi e Fabriano. Il presidente del Consiglio Draghi ha promesso aiuti istantanei per 5 milioni di euro.